Ben ritrovati, oggi siamo in compagnia di Francesco Di Giorno del Movimento 24 Agosto Abruzzo, una realtà nata nel 2019 per iniziativa del giornalista e scrittore Pino Aprile che poi si è diffuso su tutto il territorio, non solo nazionale ma anche all'estero. Allora Francesco, qual è il vostro obiettivo? Sì, salve a tutti. Il Movimento 24 Agosto per l'Equità Territoriale si nasce su il concetto di equità sancito nell'articolo 3 della Costituzione italiana. si dipana in varie ramificazioni, per esempio l'Equità Territoriale per evidenziare il divario storico ormai tra le regioni del nord e le regioni del sud ma anche all'interno di una città maggiori investimenti si danno al centro di meno alle periferie piuttosto che all'interno di una regione aria interna e borghi rispetto alle zone costiere. Il Movimento come prime battaglie ha sicuramente evidenziato quella che era la mancata applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i famosi LEP una legge che è prevista dalla legge Calderoli del 2009 ma non è mai stata applicata quindi questo ha portato maggiormente una redistribuzione mancata alle regioni del centro-sud con un ammanco di circa 61 miliardi all'anno. Studi separati dell'Eurispes piuttosto che dei conti pubblici territoriali evidenziano appunto che in 17 anni ci sono circa 840 miliardi in meno alle regioni del centro-sud. Noi abbiamo anche all'interno del Movimento 24 Agosto l'equità di genere quindi il concetto di equità può essere esteso nelle varie ramificazioni abbiamo visto. Per quanto riguarda per esempio la mancata distribuzione sociale in questo caso territoriale ma anche economica perché i soldi del Recovery Fund ad esempio secondo i nostri studi in base ai parametri dell'Unione Europea devono essere suddivisi al 70% circa tra il centro-sud e il restante al nord proprio in virtù della coesione sociale che vuole appunto l'Europa colmare i rivari proprio per questo ci sono stati dati 209 miliardi e di questi 70% i due terzi devono essere gestiti dai sindaci proprio per questo il Movimento 24 Agosto per l'equità territoriale sia Abruzzo che Marche hanno scritto ai sindaci dei propri territori abbiamo già ricevuto in una prima mail delle adesioni alla rete dei sindaci sono 500 sindaci attualmente di tutte le regioni del sud, centro-sud che vogliono chiedere, hanno già chiesto al governo Draghi di poter essere in grado, quindi anche con dei tecnici di supporto a gestire i due terzi dei soldi del Recovery Fund Francesco abbiamo un minuto a disposizione voi sostenete anche il progetto Adria Duevalli Sì, noi abbiamo appoggiato il progetto dell'ingegnere di origine anconetane e tortoretane, scusatemi, Franco Capanna che è un progetto pilota che riguarda sia la Valle Vibrata con i comuni di Martinsicura, Albatriatica e Tortoreto ma anche i comuni delle Marche, della Val Picena quindi abbiamo San Benetto del Tronto, Cupra Marittima, Massignano e Grotta Mare abbiamo inviato delle pecca anche alle province oltre che ai comuni, quindi ai sindaci abbiamo avuto riscontri lato Abruzzo non solo, anche in Vitalia ci ha risposto dicendo guardate appena verrà diciamo riaperto il bando della legge 181 dell'89 si darà seguito alla richiesta quindi noi risollegiteremo anche con la collaborazione del del Circolo Marche diciamo i territori, le province di Ascoli e quelle dei comuni interessati del Piceno grazie Francesco noi ne torneremo sicuramente a parlare io vi auguro buon proseguimento su Radio Azzurra grazie a tutti